Buongiorno a tutti, grazie. Io sono Alessandro Battisti, mi occupo in schema di gestire quello che è la sezione contrat o progetto. Schema. Per chi non la conosce, Schema è un'azienda che è nata circa una trentina di anni fa e si è preoccupata di superfici carte, superfici carte e sistemi di posa secco. Giusto un po' di storia è iniziata con il mondo del legno, anche se spesso viene associata solo a quello che è il mondo del laminato, in cui è stata forse una delle prime aziende in Italia a credere sul pavimento di laminato, ma in realtà siamo nati sul legno e insieme al laminato abbiamo sviluppato tutte le possibili superfici nel mondo delle superfici carte, quindi i pavimenti in SPC, i pavimenti a putti laminato e soprattutto quello che presentiamo oggi. Oggi presentiamo i pavimenti ibridi, perché? Perché crediamo che sia il momento di parlare anche per quanto riguarda le superfici di prodotti sostenibili, i prodotti che possano comunque preservare quello che è l'ambiente. Per preservare l'ambiente partiamo da risparmiare l'abbattimento di legno. E lo diciamo da azienda che fa anche parquet, però la direzione è quella di usare meno materia nobile, quindi trovare e mettere nel mercato dei prodotti che utilizzino meno materia nobile di un parquet, ma che abbiano delle prestazioni tecniche molto alte. Dobbiamo farlo, perché se vediamo, questa è la fotografia degli ultimi 50 anni, nel mondo dell'industria vediamo che il discorso dell'emissione, l'impatto di CO2 è molto basso, ma soprattutto perché è un settore normato, nei trasporti stiamo facendo qualcosa, nelle costruzioni, nel mondo dove lavoriamo tutti noi, ahimè non è normato e quindi la situazione è quella più da tenere sotto controllo. Per fare questo cerchiamo di risparmiare su quello che è l'abbattimento degli alberi. Perché? Solo questo scherminio ci dà l'idea e poi entriamo nei prodotti che è quello che ci interessa. Per fare un parquet e per fare un prodotto ibrido la differenza sta da 8 a 1, ovvero mille metri quadri di parquet riesco a fare 8000 metri quadri di pavimenti ibridi, solo utilizzando meno materia. Per questo possiamo parlare di sostenibilità. Ecco, per chiudere il discorso, l'azienda ha proprio iniziato un percorso per certificarsi e per seguire quello che sono le normative SG sulla sostenibilità. I prodotti Starwood. Allora, come abbiamo detto, noi tra i prodotti che trattiamo c'è l'SPC. L'SPC, conoscete tutti, è un prodotto basso spessore, pannello, chiamiamolo in vinilico con linerte e tutta una serie di caratteristiche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito il film in vinile, il decorativo, con un tranciato di legno, un tranciato di legno di un millimetro. Cosa vuol dire? Che manteniamo il prodotto a basso spessore, intanto, manteniamo le caratteristiche di un pavimento SPC, un vinilico, quindi il pannello, la resistenza all'umidità, la facilità di posa, il basso spessore, ma lo finiamo con una finitura nobile, con un tranciato di legno. Una volta posato noi avremo perfettamente un pavimento a tutti gli effetti, cammino sul legno, ma il prodotto mantiene le caratteristiche tecniche e facilità di posa e con tutti i vantaggi dell'SPC, quindi la posa frottante, non demolisco, ho la possibilità su solo 7 mm di mantenere anche gli infissi, le porte, oppure di intervenire in maniera poco invasiva. Per questo diventa un prodotto molto interessante nella ristrutturazione. Questo è come è fatto, come vedete abbiamo un sottofondo di sughero, un pannello che è quello dell'SPC e tranciato di legno. Il tutto viene verniciato per la resistenza con 7 mandi di verniciatura al corindone. Il corindone, esattamente come per i laminati, mi dà la resistenza al calpestio. E' un prodotto molto silenzioso, ovvero si può utilizzare tranquillamente nell'ambito dell'hotellerie, in quanto il sottopavimento in sughero mi dà la possibilità di avere anche le caratteristiche e le performance del sughero. Il prodotto è adatto a tutti gli usi. Lo posso utilizzare nel mondo della ristorazione, ovviamente nelle abitazioni private, in showroom, nel retail, nei b&b, negli alberghi, dove ho bisogno di utilizzare una finitura, magari legno, dove il cliente vuole camminare e avere del legno, ma le condizioni mi richiedono l'utilizzo di un prodotto di sovrapposizione, di un prodotto facile da posare, non posso fermare, chiudere un piano di un albergo perché devo fare la ristrutturazione, non voglio il legno ma non voglio rifare i massetti. Questo è il prodotto in basso spessore che ci aiuta a soddisfare queste richieste. Vediamo l'effetto finale comunque, è quello proprio di un pavimento in legno. Poi passiamo all'Ambertec. L'Ambertec è un nostro brevetto, di cui siamo sempre molto contenti e anche fieri di presentarlo. Io lo definisco come l'evoluzione dei pavimenti in laminato. Se prima abbiamo visto come abbiamo applicato alla tecnologia SBC il legno, la materia legno, qua vediamo come applichiamo la materia legno a un prodotto simile di derivazione dal laminato. Perché dico derivazione? Perché avendo un pannello in HDF, esattamente come un laminato, al posto di avere un decorativo carta ci abbiamo messo un tranciato in legno. Però c'è una differenza, questo non è un'impiallacciatura, questo non è un incollaggio, il brevetto sta nel fatto che il sistema di produzione sostanzialmente avviene per fusione con la resina. Quindi io metto tutti i tre elementi, un controbilanciante in questo caso il legno, il pannello e il tranciato, e lo vado a fondere con della resina melaminica. Il cuore del brevetto sta nel fatto che questa resina, ovviamente pressata a una determinata temperatura per un determinato tempo, fa sì che mi rende il prodotto finale quando si asciuga una materia molto resistente. Un'unica materia, non abbiamo più l'impiallacciatura. Il tranciato, ovviamente imbevuto e saturato di pori di resina, diventa tutt'uno con il pannello. Questo fa sì che il prodotto abbia una resistenza molto alta rispetto a un parquet, rispetto ovviamente a un laminato, ma abbiamo anche qua sempre la finitura a legno. La differenza, magari rispetto al prodotto di prima, è che abbiamo 11 mm rispetto ai 7 mm del prodotto Starwood su SPC, chiaramente, però abbiamo delle prestazioni veramente alte. E nasce per la posa flottante, quindi esattamente come un laminato va col suo tappetino fonoassorbente, ma lo posso anche incollare. Parlando di resistenza, questo è il test che noi facciamo, che sostanzialmente ci dà circa 400 kg per cm2 allo sfondamento. Se pensiamo a un parquet normale, dove abbiamo la materia nobile, dove abbiamo il nostro multistratto, quando abbiamo un calo, un oggetto, un antacco, una sedia, eccetera, che ci fa il solco, che ci ammacca la nostra doga, la nostra tavola, qui abbiamo ovviamente la fortuna di non avere questo effetto. Il tranciato è talmente piccolo, talmente saturo di resina, talmente compatto con il pannello in HDF che evita lo sfondamento e quindi di conseguenza abbiamo un prodotto molto resistente, adatto agli usi commerciali, adatto ai ristoranti, adatto agli hotel. Questo è un prodotto inifugo, perché la resina me lo rende inifugo, me lo rende antibatterico, me lo rende resistente all'acqua per 24 ore, noi lo garantiamo. Quindi è un prodotto, rispetto a un laminato classico, rispetto a un parquet, molto interessante. Ovviamente anche qua, in base al tranciato, abbiamo prodotti rustici, prodotti puliti, abbiamo nei formati, ci sono tavole grandi, la nostra tavola fa 2,20 metri, quindi la possibilità di avere una tavola stabile da 2,20 metri con un prezzo interessante, rustica o pulita, interessante per l'uso dove abbiamo oggetti pesanti, le palestre, i showroom ovviamente, quello che riguarda retail, negozi, ristoranti, è un prodotto antibatterico, la resina melaminica me lo rende antibatterico perenne, il pacchetto è certificato antibatterico, va bene nei teatri, e qua via percorrendo. Come abbiamo visto, i due prodotti seguono due filosofie, che nel tempo sono state le tecnologie sviluppate da schema, una nel mondo SPC, una nel mondo laminato, e ci abbiamo abbinato quelli che sono ovviamente la conoscenza e la gestione della materia legno, in quanto utilizziamo i tranciati, esattamente come li utilizziamo per fare i parquet. Questo è un piccolo riassuntivo, ma l'abbiamo detto percorrendo che la prima differenza tra i due prodotti sono il pannello uno sintetico e uno naturale, l'Humbertech abbiamo visto per ultimo, ricordo, è un prodotto totalmente naturale, non ha colle, non ha emissioni, è reciclabile al 100%, e quindi è un prodotto che ha le CAM, a livello di certificazioni se parliamo di interventi pubblici, ed è un prodotto sostanzialmente che concorre anche il lead degli edifici. Tutte queste caratteristiche lo rendono molto interessante nelle costruzioni, sempre dove devo utilizzare una materia legno e ho bisogno anche di prestazioni barra certificazioni. Cosa facciamo poi in schema per quanto riguarda la gestione poi dei lavori, delle commesse, quando si parla con i progettisti o quando si parla con dei contractor. Intanto abbiamo un supporto nostro, di nostro personale, a disposizione di progettisti, di costruttori, di contractor in tutta Italia, anche all'estero. Nel nostro sito tutti quanti trovate tutte le informazioni tecniche e le texture in alta risoluzione di tutti i prodotti, pronte per essere utilizzate magari nei render o nelle presentazioni. Tutte le informazioni tecniche sono a disposizione, registrandosi nella parte dedicata del sito, si possono scaricare tutte le certificazioni di tutti i prodotti, ci sono le istruzioni di posa, ma andiamo anche oltre. Quando parliamo di cantieri, quando avete bisogno o progettato un cantiere avete bisogno di assistenza, noi possiamo fare supporto alla progettazione, quindi noi conosciamo i nostri materiali, produciamo i nostri materiali, vi diamo tutte le informazioni necessarie per poter progettare con i nostri materiali. Abbiamo un ufficio tecnico a disposizione del progettista. possiamo realizzare il mock-up, chiaramente, e possiamo darvi tutti gli esecutivi di posa, disegni, project management, la logistica dedicata per il cantiere, per esempio. Tutti i servizi che un settore di schema chiamato project è proprio dedicato allo sviluppo dei lavori. Diamo anche l'assistenza e l'inizio cantiere. Dove non interveniamo con delle squadre che proponiamo noi per la posa, diamo l'assistenza. Siamo presenti all'avvio cantiere e siamo a disposizione per tutte le eventuali necessità. Interveniamo proprio direttamente con i nostri tecnici. Se c'è qualche domanda e curiosità siamo qua ad essere. Grazie, complimenti.